Prima gara del campionato di promozione pugliese è terminata con una sconfitta per il Lucera Calcio, impegnato in trasferta contro lo Spinazzola. La squadra di casa ha vinto 2-1 sulla formazione bianco-celeste. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Nella seconda frazione la nuova Spinazzola ha creato varie occasioni da gol, ma è stato il Lucera a concretizzare, passando in vantaggio con Di Falco da punizione palla deviata. Subito dopo la reazione dei padroni di casa ha portato alla conquista di un rigore calciato però fuori dal giocatore della nuova Spinazzola, che alcuni minuti dopo è rimasta tra l'altro in dieci per un'espulsione. Nonostante questo sono arrivati due gol firmati da Ieva e Loconte, che hanno travolto il Lucera Calcio. I bianco-celesti, infatti in superiorità numerica e con un rigore concesso fallito da Rodriguez, che ha calciato alto, non sono riusciti a pareggiare, incassando così una sconfitta per 2-1.